Nell'incontro di oggi abbiamo parlato della canapa e del suo utilizzo in cucina. Abbiamo visto come i semi prima di essere utilizzati vengono controllati in maniera molto importante per poi andare a togliere la parte oleosa e il resto invece trasformarlo in farina setacciandolo più volte. Questa farina priva di glutine è molto importante all'interno della cucina perché ha dei principi nutritivi all'interno fondamentali dalle proteine vegetali che quindi danno un supporto a livello di alimentazione importante alle persone che lo vanno a consumare ma oltre a questo le vitamine, le fibre, i sali minerali presenti. Altra cosa importante che ha questa farina è il fatto di essere un prodotto che aiuta anche nella dieta alimentare perché comunque rende i cibi più sazi per la persona che li va a consumare e quindi dà la possibilità di mangiare meno alle persone. Altra cosa importante per quello che riguarda la canapa e quindi il fatto della perdita di peso che abbiamo già detto e del superfood che abbiamo accennato con i principi nutritivi è il fatto della digeribilità. È un prodotto che viene assimilato con facilità, quindi le sue proteine vegetali dall'organismo umano e quindi anche questa è una peculiarità di questo prodotto. Inoltre ha un profumo importante e un colore importante che trasferisce poi nelle ricette che vengono realizzate. Quello che abbiamo fatto oggi, oltre a parlare quindi delle caratteristiche della canapa, sono state poi delle ricette importanti. Siamo partiti con due prodotti salati e quindi con un pane realizzato con una biga preparata con farina manitoba e quindi una farina che ha una forza molto importante e acqua, due chili di farina, 900 grammi di acqua, 18 grammi di lievito e poi da questo ne abbiamo prelevato un chilo e mezzo e siamo andati a rimpastare con gli altri ingredienti compresa la canapa. Fatto lievitare, spezzato, formato il pane e poi rimesso in lievitazione nella sua forma e cucinato in forno a 180 gradi per 50 minuti. Un'altra ricetta salata molto importante che abbiamo fatto sono le cresce sfogliate alla canapa. Un prodotto tipico qui della mia zona, quindi della zona del Montefeltro, l'abbiamo riadattato con all'interno questa farina per dargli un profumo importante e per dargli anche una croccantezza importante una volta terminata la cottura. Un prodotto che può essere abbinato con facilità ai formaggi e ai salumi ma inserito anche nel classico cestino del pane quindi per dare una caratteristica anche ulteriore a quella che è l'offerta del vostro agriturismo e della vostra struttura. Poi siamo andati nella parte dolce, quindi abbiamo preparato dei biscotti sempre fatti con farina di canapa un biscotto antico con all'interno un agente lievitante che è l'ammoniaca quindi molto friabile al termine della sua cottura un biscotto al cioccolato e un cantuccio classico con farina di canapa e semi di anice questo sempre per dare distinzione ai prodotti, per dare colori particolari ma per offrire sia un dolce al termine del pasto e quindi del pranzo o della cena ma soprattutto e anche per le vostre colazioni. Questo è quello che abbiamo realizzato oggi nel nostro webinar. Ciao! 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 Grazie a tutti.